La quindicina dei noti ci staranno, vediamo se si riesce ad inaugurare la stagione, io è Aldinio, ciao Aldo, dove andiamo? Dove andiamo? San Nicola? Che devi fare? Devi? Qua? Ragazzi si è tagliata la lingua, devi guardare, ma che l'hai? Ciao ragazzi, a dopo, yeah! Ehi, ciao! 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti